Il Commercio ha promesso di aiutarci, di incontrare tutti i candidati, di venire incontro alle nostre esigenze, di vedere se è possibile ottenere un'ubicazione anche diversa da questa e vediamo con il loro aiuto se è possibile ottenere qualcosa. Qualcosa, o meglio qualcuno, si muove per la causa degli operatori del mercato ortofrutticolo di Pulia, che a fine dicembre saranno costretti ad abbandonare l'attuale struttura per il mancato rinnovo delle concessioni. L'obiettivo di Comfcommercio è quello di salvaguardare l'esistenza del mercato, ritenuto un punto di riferimento imprescindibile per la filiera agroalimentare dei negozi e per i ristoranti. L'incontro si è svolto nell'area del mercato ortofrutticolo di Pulia, alla presenza dei rappresentanti degli operatori, del presidente di Comfcommercio Ademaro Cordoni e del direttore di Palazzo Sani, Rodolfo Pasquini. È emersa la forte volontà degli operatori di trovare una collocazione che possa essere questa se dalla parte dell'amministrazione c'è questa volontà o possa essere anche un'altra soluzione alternativa ma per il mantenimento a lucca di un mercato ortofrutticolo. È chiaro che da parte dell'amministrazione, quella attuale ma anche quella futura, ci deve essere l'impegno di una partecipazione attiva a individuare una soluzione percorribile. I punti da chiarire sono molteplici. La strada da percorrere è ancora lunga, ma la tenacia e la voglia di combattere per il proprio lavoro da parte degli operatori non mancano. Dopo tante promesse, i lavoratori del mercato ortofrutticolo pretendono delle risposte concrete e solo allora potranno ritenersi soddisfatti.